Allora, Vice Ministra Annascani, iniziamo da uno dei temi più caldi del momento, la legge di bilancio. Una volta archiviata il decreto scuola, adesso ci si concentra su questo tema. Le risorse però non sembrano essere quelle sperate, quelle auspicate anche dal Ministro Fioramonti, che aveva addirittura minacciato dimissioni o insomma azioni importanti di questo tipo. Non so, l'intera squadra del Ministero come intenderà organizzarsi, come cercherà di richiedere quello che vuole? Queste sono le ore cruciali perché come è noto le sessioni di bilancio poi trasformano la legge di bilancio in Parlamento, in questo caso in Senato. Noi abbiamo ottenuto dalla prima scrittura oltre un miliardo per il rinnovo dei contratti dei docenti, stiamo cercando di aumentare questi fondi per portare ad un aumento contrattuale di un centinaio di euro in busta paga ai docenti, anche perché abbiamo i docenti meno pagati d'Europa. Ci ripetiamo ogni volta che bisogna pagarli di più, ecco noi vorremmo poter avere le risorse per farlo, e quindi questa sarebbe già una parte di risorse importanti. Stiamo lavorando per poter scorporare la nostra parte di risorse sull'edilizia scolastica, che per il momento è contenuta nel calderone del fondo infrastrutture. Stiamo lavorando per aumentare i fondi al diritto allo studio, al finanziamento ordinario per l'università, per le borse di specializzazione, anche qui se ne parla spesso ogni volta che viene fuori che in Italia mancano i medici, poi però appunto quando è ora di tirar fuori i soldi che servono si fa fatica. Abbiamo chiesto che si faccia un po' meno fatica e che queste borse invece arrivino. Per quel che riguarda la scuola stiamo lavorando sostanzialmente su tre fronti. Il primo riguarda l'infanzia, perché il decreto che abbiamo appena approvato riguarda come è noto la scuola secondaria e quindi abbiamo bisogno di sbloccare assunzioni anche per quel che riguarda invece l'infanzia, che non ha avuto neanche il potenziamento della buona scuola. Seconda cosa il sostegno, c'è un'emergenza sostegno in questo paese, se ne parla troppo poco di quanti bambini ancora fanno fatica a trovare l'insegnante che deve accompagnarli nel corso del tempo, anche qui noi abbiamo chiesto con un emendamento sostenuto da tutto il MIUR, qui veramente non c'è colore politico che si provveda a aumentare i posti di sostegno, sostanzialmente a passare più posti da quelli che sono autorizzati in deroga a quelli che sono di diritto. Questo è un linguaggio tecnico, ma sostanzialmente vuol dire che i bambini avranno all'inizio dell'anno il docente di sostegno che gli spetta senza dover aspettare altre autorizzazioni, e poi il cosiddetto personale ATA. Di questo invece non si parla mai, perché non si sa quanto è importante perché le scuole funzionino. Spesso noi non abbiamo quel personale, i plessi sono gestiti da una singola unità di personale ATA, e purtroppo a volte questo ha dei risvolti negativi anche sulla sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, perché ovviamente per poter vigilare serve personale. E anche qui noi stiamo cercando, appunto con un emendamento sostenuto da tutto il MIUR, di avere dei fondi. Quindi, complessivamente, se queste operazioni dovessero andare tutte in porto, arriveremmo non lontani dai 3 miliardi di cui avevamo parlato all'inizio, e quindi sarebbe un ottimo risultato. Ma non per Fioramonti, per Lascani, per Lazzolina o De Cristofalo, sarebbe un ottimo risultato per il paese, perché ogni euro investito sulla scuola, diciamo che come minimo ne produce 10 al sistema paese, perché è un investimento sul futuro di tutto il paese, e naturalmente poi dei singoli bambini e ragazzi che stiamo formando tra i nostri banchi. E c'è un margine per ottenere questi 3 miliardi? C'è un margine, io sono particolarmente ottimista, anche perché c'è il cosiddetto borsino parlamentare, che viene sempre lasciato nei dibattiti all'interno della legge di bilancio, e i parlamentari, devo dire, sono molto sensibili su questi temi, perché sanno bene che se manca l'investimento in istruzione, formazione, università, la legge di bilancio in qualche modo monca, e noi non vogliamo una legge di bilancio monca, ma vogliamo una legge di bilancio che dia delle risposte. Quindi i parlamentari stanno spingendo su questo fronte, quindi mettendo insieme le risorse, l'ATO, MEF, quelle che abbiamo ottenuto e quelle che otterremo dalla parte del governo, e un po' di borsino parlamentare, si può arrivare non lontani da quel risultato, io personalmente sono ottimista. Parlando dei vari fronti, ha nominato l'edilizia scolastica, che è anche una sua delega, quali sono le azioni future e che cosa si intende per come e quali saranno le scuole sostenibili? Allora, intanto vogliamo fare un po' ordine tra i canali di finanziamento, perché spesso si dice che le risorse ci sono, ma non si spendono. In realtà spesso i finanziamenti sono stati frammentati, noi per questo la settimana prossima abbiamo convocato con gli enti locali una cabina di regia che ci servirà a gestire al meglio le risorse che ci sono. Stiamo liberando un miliardo di risorse che rientrano nel bilancio 2019, naturalmente saranno spese a partire dall'anno prossimo, in due tranche da 500 milioni e da 340 milioni circa, più altri 130 di economie di finanziamenti passati. Però con gli enti locali vogliamo riuscire a capire dov'è che questi finanziamenti si fermano, se è un problema di progettazione, se è un problema di mancato supporto, se è un problema di cofinanziamento. Per questo abbiamo voluto la task force sull'edilizia scolastica che abbiamo costruito insieme al Ministero per il Sud, perché è interna all'Agenzia per la coesione, c'era già un embrione di questa task force che adesso viene potenziata, proprio per dare una mano agli enti locali, ma anche con un'altra funzione, cioè laddove l'ente locale dovesse essere inadempiente, il Ministero deve poter subentrare, cioè non deve esserci neanche un euro che si disperde, siccome anche lo studio della Fondazione Agnelli di qualche giorno fa ci ha detto che ci sarebbe bisogno di decine di miliardi, quelli che abbiamo dobbiamo poterli utilizzare tutti nel minor tempo possibile e quindi quello che stiamo cercando di fare è esattamente questo. Miur sostenibile vuol dire che proviamo a dare una risposta ai ragazzi che scendono in piazza, perché la politica fa presto a dirgli che sono bravi, che fanno bene a protestare per il clima, che fanno bene a rivendicare il diritto a vivere in un mondo più pulito e in qualche modo a vivere semplicemente, visto che quello che gli stiamo rubando è sostanzialmente il futuro propriamente inteso, e però la politica deve dare risposte, non bisogna solo dirgli bravi. Allora noi abbiamo proposto che tra i nostri canali di finanziamento sull'edilizia scolastica la sostenibilità diventi un criterio vero e proprio, cioè che gli edifici si costruiscano con criteri di sostenibilità, basta entrare in una scuola per vedere che razza di collaborato energetico sia l'edificio scolastico medio, a livello ad esempio di finestre che disperdono il calore o come funzionano appunto i caloriferi, l'illuminazione come funziona. E in più noi stiamo pensando di installare sempre di più, esiste già in diverse scuole italiane, dei meccanismi che attraverso la tecnologia producano energia pulita e magari così le scuole cominciano a diventare anche dei produttori di energia per la loro comunità, di energia pulita. Stiamo lavorando anche con le aziende che operano in questo settore, insieme alla Banca Europea per gli investimenti, per riuscire a mettere in piedi un progetto che alla fine, almeno nella nostra idea di scuola, dovrebbe portarci a un vero e proprio miur a impatto zero. Sarebbe una bella risposta ai ragazzi dei Fridays for Future. Mi aggancio al tema di Fridays for Future per chiederle se secondo lei è giusto che i studenti saltino le lezioni però per scendere in piazza. Guardi, nessun viceministro dovrebbe dirgli di sì, semplicemente perché la loro protesta ha più valore se non sono giustificati. Io ricordo quando ero studente, ho fatto tante manifestazioni e le ho fatte sapendo che avrei in qualche modo contraddetto il mio dovere di sedere tra i banchi. D'altra parte però non posso che da politica essere soddisfatta del fatto che questi ragazzi scendano in piazza per rivendicare il diritto al futuro e soprattutto per rivendicare più attenzione da parte della politica su un tema così delicato come l'ambiente. È incredibile che per tutti questi ragazzi, diciamo per la stragrande maggioranza, la priorità numero uno in assoluto su qualsiasi rilevazione sia il clima, l'ambiente, l'attenzione alla sostenibilità. C'è una sensibilità eccezionale, probabilmente inedita, che noi non possiamo lasciar correre. Però ecco, la politica deve dare risposte, non può limitarsi a dire saltate le lezioni. Ovviamente io da politica sono contenta che ci sia questa sensibilità, dall'altra parte il nostro dovere è appunto quello di agire concretamente per dar loro qualche risposta in più. Cambiando tema, alternanza scuola-lavoro. Tornano al regime per poter accedere all'esame di Stato? Il ministro Fioramenti si è mostrato scettico su questo tema, lei invece sembra puntarci molto. Chi dei due ha ragione? Allora, intanto i percorsi adesso si chiamano PCTO, con un acronimo che non è proprio il massimo, ma che diciamo nella sostanza rappresenta il significato di quei percorsi, cioè percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. A cosa serve fare un'esperienza al di fuori della scuola? A trasformare la scuola in un'azienda? Ad azienda assolutamente no. Serve a permettere ai ragazzi di esercitare un loro diritto, cioè il diritto a vedere che cosa c'è fuori, che cosa li aspetta e soprattutto il diritto a decidere che cosa vogliono essere nella loro vita, scoprire il loro talento. Io credo che questi percorsi siano fondamentali per aiutare i ragazzi a scoprire e a scoprirsi, perché troppi sono ancora quelli che a 18-19 anni di fronte alla domanda che cosa vorresti fare da grandi sono assolutamente confusi, non hanno la più palida idea non solo del corso universitario che vogliono scegliere, ma proprio del lavoro che gli piacerebbe fare, dei temi che vorrebbero approfondire. Allora, l'idea che i percorsi di competenze trasversali e orientamento, cioè quella che era l'alternanza scuola-lavoro, siano valorizzati anche all'interno dell'esame di maturità, significa semplicemente che diamo più importanza anche a questo aspetto, cioè all'aprire un oblò sul futuro di questi ragazzi. Non possiamo pensare alla scuola come un qualche cosa di totalmente separato dalla società e da quello che sta fuori, altrimenti metteremo in difficoltà non le scuole, ma i ragazzi. Gli stiamo negando un diritto al futuro ed è questo quello di cui ci dovremmo preoccupare. E perché anche questo scetticismo sull'invalsi, visto che comunque per poter accedere all'esame si tratta semplicemente di garantire la partecipazione, non tanto la valutazione? Beh, intanto c'è un grande fraintendimento sull'invalsi, perché in tanti hanno pensato che test invalsi servisse a valutare lo studente, non è assolutamente così. Gli studenti li valutano gli insegnanti, ovviamente tenendo conto di tutto, delle competenze, di come crescono, dei passi in avanti che fanno, la valutazione compete al docente. L'invalsi è un termometro che serve a noi per capire come sta il sistema. Quindi non ci serve per sapere se lo studente X o Y ha raggiunto determinate competenze, ci serve per sapere se il sistema scuola in Italia sta funzionando. Ecco, i test in generale ci dicono che c'è qualche problema, soprattutto ci illuminano il problema dei divari. Noi non sapremmo mai il livello di divari territoriali che abbiamo oggi in Italia se non avessimo quei test. Oggi quei test ci dicono che l'Italia ha la febbre, il problema non è rompere il termometro, ma trovare la medicina adatta. E quindi noi dobbiamo intervenire, abbiamo un progetto sui divari territoriali che presenteremo a breve, per fare in modo che la febbre si abbassi. Non è mai una buona idea pensare che distruggere il termometro faccia passare la malattia. Cambiando argomento, anche in questo caso la scuola si avvia a diventare, si dovrebbe avviare a diventare sempre più digitale e innovativa. Però tiene ancora a banco il discorso cellulare in classe sì, cellulare in classe no. Lei come la vede da questo punto di vista uno strumento utile oppure vanno lasciati fuori dalle classi? Ma guardi, il Bring Your Own Device è l'ultima parte del piano nazionale scuola digitale. Prima di arrivare lì ci sono una serie di step da percorrere. Noi siamo ancora molto lontani. Anzitutto, quello che diciamo spesso col Ministro è che mentre il mondo intorno è cambiato, se un uomo dell'Ottocento arrivasse oggi in Italia ed entrasse in molte classi si troverebbe perfettamente a suo agio. Mentre non si troverebbe a proprio agio per strada, tra le macchine, i treni velocissimi, i cellulari, ovunque, a scuola troverebbe un contesto che tutto sommato non è poi così cambiato. Ecco, questo non è possibile perché la scuola deve preparare alla vita, la scuola è la palestra di vita per eccellenza, è quella che ci prepara ad essere cittadini, al pensiero critico, alla cittadinanza consapevole e quindi naturalmente noi abbiamo bisogno anzitutto di capovolgere le classi, di aiutare i docenti a cambiare i metodi della didattica, anche attraverso le tecnologie, ma diciamo il cellulare è l'ultimo degli strumenti utilizzabili, ce ne sono tanti, molti che possano essere utilizzati e prima di tutto lo strumento per eccellenza che va utilizzato è la formazione dei docenti. È inutile pensare che far usare il cellulare ai ragazzi cambierà la scuola italiana, la scuola italiana cambierà soltanto se faremo un investimento serio sulla formazione di chi ci insegna. Ultima domanda sul suo movimento, la sua corrente che ha da poco presentato, la presenterà questo sabato anche a Roma, Energia Democratica, quali sono gli obiettivi? L'obiettivo principale è far sì che il Partito Democratico resti fedele a ciò per cui l'abbiamo fondato insieme 12 anni fa. Io ho la grande paura che il Partito Democratico si releghi a fare la sinistra di un centro-sinistra in cui non si capisce chi dovrebbe fare il centro e invece credo che ci sia una prateria di elettori che guardano al PD aspettandosi rappresentanza. Non possiamo pensare di lasciare ad altri quello spazio e quindi Energia Democratica è nata con l'idea di rappresentare l'identità diciamo radicale del PD nel senso delle radici e nel senso della profondità e della capacità di incidere su temi che ci sono cari. Noi abbiamo già sottoposto al segretario alcune delle nostre proposte più forti che naturalmente riguardano la scuola perché è quella che mi è più cara, riguardano l'ambiente, ne abbiamo parlato, io ho chiesto al segretario di fare un investimento su una pubblica amministrazione impatto zero, fare quello che noi stiamo facendo al MIUR per tutti gli edifici della pubblica amministrazione e poi una cosa da mettere presto in agenda perché è importante, perché dà un segnale, perché il paese è pronto, cioè lo use culture. C'entra qui con la scuola, noi vogliamo dire, lo diciamo come Energia Democratica ma lo dice tutto il PD e bisogna che lo dica il governo che chi studia in Italia è italiano. È ora di finirla con altri tipi di ragionamenti con chi ci dice che non è la priorità. I diritti sono sempre la priorità. Peraltro un governo è in grado di fare più cose contemporaneamente quindi mentre fa lo use culture può fare anche altro ma è importante che questo segnale si dia e si dia in fretta. A questo punto però parlando di governo un'ultimissima cosa ovviamente questo, l'attuale governo è composto da più parti l'ultima parola non aspetta soltanto al PD ci sono già un po' di scontri lei è ottimista per quanto riguarda il proseguo di... Guardi, io credo che non si possa andare avanti tirando a campare lo continuo a dire perché penso che questa esigenza di visibilità e di mettere bandierine stia facendo molto bene a Salvini e molto male al Paese non tanto al governo. Se siamo in condizioni superata la sessione di bilancio di avere un'agenda condivisa sulla quale poi cominciamo a dare qualche risposta si va avanti altrimenti si torna a votare non si può stare insieme soltanto per la paura dell'uomo nero altrimenti quando poi arriva davvero l'uomo nero potrebbe far dei danni molto più grossi di quelli che fin qui abbiamo evitato. Grazie a tutti.